Sono Rojas, sono enologa da Cile, insieme al mio marito Stefano, enologo anche lui italiano, non è cileno. Abbiamo cominciato questo progetto il 2019, a fine 2019, perché abbiamo tanta passione per il vino e ovviamente enologi, vogliamo il nostro vino proprio. Abbiamo avuto l'occasione di comprare 6.000 metri nel Chianti Classico, vicino a Villa Le Porti, anche vicino a Silvia Colle. Siamo molto contenti della nostra prima annata, 2020, che ha il 90% sangiovese e il 10% cabernet Sauvignon. Dal 2021 abbiamo un ettaro, siamo molto contenti perché ci fa piacere appartenere all'associazione di San Cacianoo Classico. E niente, noi qui in questo vino troverete anche, ovviamente, il sangiovese, il cane cabernet, tanta passione e tanto impegno nel nostro lavoro, perché facciamo tutto noi. Facciamo la potatura, facciamo tutto noi. Quante bottiglie? Facciamo 2.000 bottiglie, soltanto la nostra prima annata e troverete tanta passione e impegno nel nostro lavoro. Poi vogliamo anche, anche se siamo enologi giovani, vogliamo trasmettere la nostra passione, però comunque rispettare il territorio del Chianti Classico, perché ovviamente è molto importante fare questo vino che rispecchia il territorio, ecco, quindi è quello. Il nome è un toponimo della... Noi siamo Calcamura perché siamo in mezzo a Poggio, no, sì, Poggio Calcorelli e Potere Mura. Ecco, quindi... Quindi... Siamo in mezzo a Poggio Calcorelli e Potere Mura. Siamo in mezzo a Poggio Calcorelli e Potere Mura. Sì, sì, perché siamo in mezzo a loro due casi in via Mura, quindi abbiamo detto va bene, facciamo un mix di nomi, quindi ecco, sì. Spero che vi piaccia. Il Chianti Classico in Cile lo conoscono? Pochino, pochino, poco, sì, molto poco. Scusa, io ho un amico che fa import-export col Cile, come è divino, Alessandro Alessandroni, magari non c'è. No, 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 ma lui è cileno? No, lui è italiano e è andato a vivere in Cile. Ah, ok, allora... Import-export. Dopo mi dai il contatto? Sì, grazie, sì, sì, molto bene. Bene, grazie. Quindi spero che vi piaccia. Ora ci puoi parlare bene, non sovrimmo. Se avete qualche domanda, poi sono stata molto breve, perché poi voglio che anche mangiate. Ah, dice una cosa l'olio, che poi lo serviamo. L'olio è la nostra prima annata, il 2022. Le varietà sono le tipiche... Sì, Moraiolo, Lencino. Lencino. L'olio è la nostra prima annata, in realtà. Non è... È molto espressiva, però sì. Due prime volte. Due prime volte, infatti. Due prime volte. Il 2020 è annata, insomma, già un inizio tosto. Insomma, in Cile ci sono regioni anche molto più calde, ma anche molto più fredde. Comunque il 2020 è un'annata bella per i Cialtilassi, dove insomma non era facile fare i vini eleganti. Questo, obiettivamente, vino, l'avete detto tutti, appena nel bicchiere, è estremamente polposo, ricco, fresco, un bel frutto vivace, tanta intensità. Frutta sia rossa che nera, c'è anche un po' di mirtillo, un po' di ribes, vari colori, una bella fragola. Sensazioni, qualche nota anche un po' speziata, un po' di pepe, probabilmente il tocco di cabernet si può sentire a livello di pepe. Soprattutto, direi, bellissimo l'equilibrio in bocca. Da questo punto di vista, molto sancascianese, direi. Cioè, il frutto è uno dei territori dove il frutto è sempre più polposo, più ricco. A volte pure troppo, in questo caso, secondo me, invece, si è tenuto abbastanza a freno. E poi, comunque, nonostante l'abbondanza di frutto, resta molto fresco e molto vivace nel palato. La prima, ma la prima è facile, eh? Ecco, ecco. La prima è andata, però bravi.